Omega Speedmaster Vintage – L'eleganza intramontabile L'orologio da polso Speedmaster Vintage è una testimonianza di classe senza tempo e design intramontabile. Lo Speedmaster Vintage è un tributo al design classico che ha reso famoso il marchio. Le sue linee pulite, il quadrante leggibile e la cassa elegante rappresentano l'essenza dell'estetica vintage. Questo modello incarna lo stile senza tempo che ha reso l'orologio da polso Speedmaster un'icona indiscussa nel mondo dell'alta orologeria. Gli orologi Speedmaster Vintage sono realizzati con materiali di alta qualità e artigianato impeccabile. Le casse in acciaio inossidabile o in altri metalli pregiati sono lavorate con cura e attenzione ai dettagli, garantendo durabilità e eleganza. I quadranti puliti sono spesso arricchiti da indici luminosi e lancette raffinate. Una delle caratteristiche più riconoscibili dello Speedmaster Vintage è la sua lunetta con tachimetro. Questa funzionale lunetta, spesso realizzata in alluminio anodizzato nero, consente di calcolare la velocità media in base al tempo impiegato per percorrere una determinata distanza. È un dettaglio distintivo che testimonia la connessione dell'orologio con il mondo delle corse automobilistiche. Tra le caratteristiche distintive dello Speedmaster Vintage abbiamo la funzione cronografica, visibile su due subquadranti a essa dedicati, datario con finestrella a ore 3 o a ore 6, funzione day date con finestrelle vicine a ore 3 o all'interno del subquadrante dei minuti cronografici a ore 12, e funzione fase lunare, all'interno del subquadrante delle ore cronografiche a ore 6. Dal quadrante è visualizzabile il contatore dei piccoli secondi a ore 3, 6 o 9 anche con funzione giorno-notte. Lo Speedmaster Vintage ha avuto il privilegio di adornare i polsi di numerosi personaggi famosi nel corso degli anni. Icone del cinema, celebrità dello sport e personaggi di spicco hanno scelto questo orologio per il suo fascino intramontabile e la sua eleganza senza tempo. Gli esemplari originali dello Speedmaster Vintage sono oggetto di desiderio per i collezionisti di orologi. La loro rara combinazione di design vintage, storia e autenticità li rende pezzi da collezione ambiti. Negli anni, il loro valore è cresciuto notevolmente, rendendo l'acquisto di un Speedmaster Vintage non solo un piacere estetico, ma anche un investimento nel patrimonio orologero. In conclusione, lo Speedmaster Vintage è un gioiello dell'orologeria che racchiude in sé l'eleganza, il design e l'artigianato di altissimo livello. Grazie. 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 Grazie.